Bentrovati nel mio canale. Io sono Anna. E in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie The Family. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella seconda stagione. Alia ed Ergan avevano un unico obiettivo. Separare i loro rispettivi figli, Aslan e Devin. Alia, determinata a raggiungere il suo scopo, convince Ergan a falsificare un test medico, promettendogli una cospicua somma di denaro in cambio. Secondo il piano, il test avrebbe dovuto mostrare che Devin non poteva più avere figli. Purtroppo, questo perfido inganno viene alla luce grazie alla zia Nedret. La scoperta della verità e le conseguenze. Devin, sconvolta dopo aver scoperto di essere stata tradita dal proprio padre, decide di vendicarsi. La giovane presenta una denuncia per truffa contro Ergan, portandolo a perdere il lavoro come medico. La moglie di Ergan, incapace di sopportare l'onta e i continui problemi, lo lascia. Senza un'occupazione e senza un tetto, Ergan cade nel vortice dell'alcol. Le condizioni di Ergan peggiorano di giorno in giorno. Ma nonostante vari tentativi di riconciliarsi con sua figlia, Devin non riesce a perdonarlo. Tentativi di riconciliazione e minacce. Ergan, disperato, incolpa Alia per la sua rovina e la minaccia con una registrazione audio compromettente. Nell'audio, Alia gli chiede esplicitamente di falsificare i risultati del test di Devin. Temendo una ritorsione, Alia ordina i suoi uomini di sorvegliare il padre di Devin. Il tragico epilogo. Purtroppo, la situazione prende una piega drammatica. Poche ore dopo, Ergan scopre che i freni della sua auto sono stati manomessi. Durante un viaggio in alta velocità, l'auto si ribalta e Ergan perde la vita sul colpo. Proprio quella sera, Devin e Aslan stanno tornando a casa dopo una cena in famiglia organizzata per festeggiare il rilascio di Leila. Lungo il tragitto, Devin si accorge dell'incidente. L'auto ribaltata è proprio quella di suo padre Ergan. La giovane si precipita sul posto, ma per il padre non c'è più nulla da fare. Ergan è morto sul colpo. Devin, disperata e in lacrime, si pente di non aver dato un'altra opportunità a suo padre, il quale ha ormai perso per sempre.